Ed eccoci qui, un altro anno sta per finire e come sempre ricordiamo i momenti più belli, divertenti e stupidi. Ehi ma quello sono io! E invece, era un razzo! Guardate qua come vuoi! E che è? Questo video lo dedico a voi, per ringraziarvi. Buon anno a tutti! Questo è VincoLob. Io sono Vinco. Buongiorno! 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 Buongiorno!